Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio farvi la recensione del TACOGO PRO INSOX. Partiamo con la confezione. Si vede subito, appena preso in mano, che è un prodotto di alti livelli. All'interno di questa confezione troviamo qualche vite di ricambio, di distanziali che si adattano perfettamente a ogni tipo di manubrio, il libretto delle istruzioni con uno snodo. C'ha i suoi PRO che i suoi CONTRO. Sulla bici si fissa veramente molto bene, in un attimo lo si smonta e in un attimo lo si monta in qualsiasi altra bici. La cosa comoda, oltre al fissaggio su qualsiasi tipo di manubrio, ha una manopola più grossa davanti dove si può regolare la direzione, si può filmare noi stessi come sto facendo io adesso, si può filmare il laterale e si può filmare davanti. Se devo trovare un difetto di questo attacco GoPro è il prezzo, che comunque si aggira sulle 80 euro, 79 euro su Amazon. Comunque troverete il link qui sotto in descrizione. Le riprese che vi faccio vedere sono fatte tutte con una mountain bike trasformata, non ha più sua forcella con gli ammortizzatori ma ha su una forcella in carbonio. Ora vi lascio qualche immagine, a dopo. Ora andiamo a fare un salto in pineta e vediamo come si comporta. Questa è un salto in pineta. Questa è un salto in pineta. Questa è un salto in pineta. la recensione è finita se il video vi è piaciuto mettete un mi piace qui sotto iscrivetevi al canale da tollare tutto 40 gradi recensione sudata alla prossima ciao ciao